Anticipazioni un posto al sole, venerdì 6 dicembre 2019. Le aspettative di Marina vengono tremendamente deluse. La donna ritorna a casa molto provata dopo la cena con lo zio Sebastiano. Tutto ciò andrà a rovinare il rapporto tra lei e Fabrizio, oppure esso resisterà a queste intemperie? Otello intanto litiga con Teresa. L'uomo è veramente di cattivo umore e non riesce a nasconderlo alle persone che gli gravitano intorno. Per fortuna sulla strada incontra Renato e riesce a sfogarsi con lui e a parlargli di quanto accaduto. Lo sfogo peraltro lo aiuta a sentirsi meglio. Grazie a tutti.